musica 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 5 di una ma al tuo musica e ha accoluito Work un altro parte facciamo 639 punti alla fine di New Jersey musica guardiamo, cambiamo, scelgo, pago grosso No, 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 no. No, 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 no. Deve è stato arrivato il controller, e niente. e si va a frecce rossi scherzo con ciò che ti faccio la foglia comitano sulla vento non lo so ma cos'altro ci vogliono inventare sulla maccia non lo so vedo la feccia rossa veramente se vuoi ti faccio pure il controllo se vuoi ti faccio la foto tutto quanto quella forza salvabilizzo ma niente ma niente c'è gente o no ragazzi no no non c'è gente non c'è gente ma non c'è gente ma voi pensi era vero che sciunghi in mezzo della cassa sta diventando a ballare buonasera grazie sta uscendo leo già scende scende e' varna look to me ah buon de a un no Amore mia, no non è vero, questo non è un zonso di combattimento, qua c'è il bagaporto, me lo faccio io fatti un oscillino prima non ce l'ho, dove ho io questo bile? non vuoi dire? mi ha finito tutta l'evala, non vede ragazzi non è accorta vabbò andiamo a posto qualche altra cosa? no a posto una vita da bom 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 che c'è questo? bom 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 qua c'era da un medico qui c'era un altro un altro no avanza materiale eh? anche qui non è vero è un combat quello non 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 Sto portando io le passate 50 Oh non so che pure stai portando ma ci ne stanno 8 i stiletti Mi porto Lascio 200 Come? Ci ne stanno 8 qua e l'altro... Ma l'ho capito Questa è l'altro due a contenere quello la vicino alla casa Guarda dove c'è il vino Intorno Comparalo Le ho con fame e mi pietro là davanti Vieni a prendere l'assalto qua sotto Assalto quello forte Tony Stark lo vuoi o si? Andiamo a prenderlo Vado solo Dai vieni con me andiamo a prendere il pompa dai Dai vieni con me andiamo a prendere il pompa dai 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 Non ho ce l'ho detto Ma non ho detto che ho detto non è mai fatto E' niente Che spero Ma non ho detto che ho detto che ho detto Ti sentite con me ero Ma che ti sentite con di bocca dai cazzo di botte? E' niente Sì Ok andiamo cos'è sto coso, un scudo cos'è sto coso che significa hacking ma questi poi diventano a favore leo tu non vieni qua non c'è nessuno non c'è nessuno ma vuol dire che c'è una passata a 5 anni chi ha fatto la bici sta questo ragazzo la bici sta entrata non c'è nessuno 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 rilassimo a nei bello sti se mi prenderà già sono full di e niente, mo quello, mannaia eva ma proprio così puoi scrivere che siamo in audio di gioco no, non puoi farci da quell'altro mi scappa, fanno solo, dove siete voi? la ora siamo in medio per favore mi fa pensare di ulti altri ulti come un cane, quanti ne hai? ancora niente top gente si 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 qui si 25 no 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 non si era bisogno no no non si vede non si vede fa quel servono col ticchettino no la come cazzo? che cazzo viene scusate letto, 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 letto destra vedo, vedo sono anche la la 46 ok 44 quello è bianco hanno scelto altri alla top, guarda fai una cosa sparare al giro è un'altra cosa non si non sono non si 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 al bianco gli ho fatto 30 headshot dai io ho fatto inserito il bianco dai questo non muore, questo non muore dai su ma la top dove cazzo è? stavo la prima presa la top ma quando mai? c'è questo, poi c'è tanto materiale se vieni vedo quanto se c'è il tempo la verità è proprio interessante questo va come cazzo? ah ma c'era davanti ecco perché spazio una spazio no 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 dall'altro lato c'è la scala perchè è niente ma fatevi i cazzi ostri andatevene in safe no ma non per i coglioni bianco eh? bianco eh? cazzo di si e niente ma c'è altra gente qua e niente ma è basta però sto cazzo che fa in quanto? ci sono e noi mii cazzo di mii e sceglie che ci 23 bianco e niente, non lo resto a fare Altro 23 bianco e niente non cade Ma non ho capito che uscina, se uscina vado mi stende pure questo Nemmeno io ho capito che uscina in questo posto Sì siamo, cinto Looper, te ne hai Ma cazzo siamo, ma chi è facendo? Volevo, ho fatto 90 e ancora non ho capito io Ma come l'ho, cagli niente, non vuole Volevo, cagli niente Volevo, cagli niente Volevo, cagli niente Volevo, cagli niente Siete tre? 1v1v1 forse Probabile, sì Qua cos'è il capo del gruppo Io Volevo, cagli niente No Ma non vuole entrare in audio di parte in caso di gioco Va, lui sta Cagli niente Volevo, cagli niente Volevo, cagli niente Volevo, cagli niente oh E' un po' più giusto, c'è l'inarca Come è brutto Sto schermo andando a fare l'alba Sinistra, andiamo a sinistra, andiamo a sinistra Andiamo a sinistra E' un po' più giusto Che dovrebbe essere i buoni entrano si giusto poi E' un po' più giusto E' due coi B'è un risri Certo Non trombie fuori sellait un po' Scusa il mio pomo Ma dai Puoi parlare per me? No Ma dai c'è una lega dove mi ha preso Puoi parlare Puoi parlare per me Passằng a Un poglei Puoi parlare per me Pelle